I sindaci siciliani hanno firmato un'ordinanza con la quale chiudono le scuole fino a sabato. Asili, nido aperti, scuole dell'infanzia chiuse, tutto il resto in DAD, ovvero elementari e medie superiori. I sindaci demandano ai presidi la possibilità di applicare la DAD. Non si sentono sicuri i primi cittadini, anche perché, come loro stessi scrivono in una nota, non hanno ricevuto i dati specifici sulla scuola dall'ASP. Abbiamo chiesto all'ASP dati specifici sulla scuola che ancora non sono arrivati. È una delle motivazioni adotte nell'ordinanza per la richiesta di chiusura, ex articolo 50 del testo unico degli enti locali, quando si ravvisa una condizione di pericolo. La scelta della DAD invece demandata ai singoli istituti non è uno scaricamento di responsabilità, è proprio una scelta obbligata, i sindaci non possono entrare nella didattica. Non è competenza e quindi l'obbligo di applicarla avrebbe potuto creare un'occasione di impugnabilità dell'ordinanza stessa. Per ciò che riguarda Caltanissette, il sindaco Gambino ha chiesto nuovamente, con noto ufficiale all'ASP, i dati epidemiologici scorporati per fascia d'età, considerato che il capoluogo è in zona arancione. Se la Sicilia lunedì sarà in zona arancione, allora gli scerari saranno differenti.